salve a tutti ragazzi in questo nuovissimo video di minecraft oggi farò una scherza non potrei fingirmi aerobrine perchè devo fare la schiena oppure potrei farla devo stare appiattito aspetta raga ho preparato tutto su invisibile ok trice mia sorella ha colto questa casetta in creativa perché non è capace però non mi ha premesso i blocchi in teoria dovrebbe essere qua da qualche parte io gli ho detto che era andato in miniera cambio skin, metto una skin che assomiglia aerobrine, questa qua è perfetta, basta che vedete questo è steve normale, in questo corpo, occhi, bianco aerobrine ecco se ci vede ha alcuni frigo, quello è l'idea di fare il frigo allora lei in teoria non ci vede ooo, sus sus, ah sta guandola qui, sta guandola qui ok 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 come vedete io mi sono preparato mi sono preparato oddio mi lagga ragazzi non scusa dire la gambocca ragazzi ragazzi ok ok ragazzi forse non si raccolta quando mi ha picchiato, solo che alla fine c'è stato un po' di casino, ho detto che ero morto perché ero spuso da un creeper, ero morto da uno scheletro e non mi raccomando tutto credere ma non l'ha visto il tempo macetta allora allora scusami siamo con un po' di allora ragazzi voglio prendere un po' di questo scusami 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 ma scusami scusami non non so se se consente ha rinzaldato forse non mi vede forse non mi viene la porta non si è aperta forse non l'ha visto forse non l'ha visto ragazzi sono stato sgamato sono stato sgamato ragazzi ragazzi te lo puoi mettere finale come via ragazzi no ragazzi è stato bellissimo per questo è tutto arrivederci oh my god